caldo, in punto più freddo. Quando questa differenza è troppa, sono dolori. Geremia mi chiede, ciao Giuseppe, avendo un armadio a ponte ho notato che sotto il letto c'è un velo d'acqua. Aia! Cosa può essere, immagino? Beh, cosa può essere? È umidità in eccesso a livelli esagerati. La mia domanda solita è, ce l'hai un orologino che misura il tasso di umidità? Se sì, che valore ti dà? Ma in realtà questa domanda è proprio una domanda retorica, perché se c'hai un velo d'acqua significa che c'è un livello di umidità superiore al 70%, è addirittura prossimo ai 90-100% vicino al pavimento, per arrivare a formarsi questa differenza di temperatura. C'è un piccolo problema, Geremia, se non poni rimedio al più presto a questa situazione, sul velo di acqua che ti si forma si deposita la polvere e sopra la polvere si forma muffa, persino sui pavimenti. Ne ho visto uno il mese scorso andando a Milano e su questo canale TikTok puoi trovare la mia galleria degli orrori quotidiana che pubblico costantemente.